ciao questo è un nuovo video che solito che faccio quando riesco a guardare qualche a guardare qualche film anche se questo film l'avevo già visto un po di tempo fa che ogni tanto me lo vado tipo a riguardare che come film a me è piaciuto anche tanto che adesso che visto che marei mi sto andando proprio a recuperare certi certi film proprio di kubrick che che come si dice che non sono ancora magari è riuscito marea a guardare poi gli volevo dedicare marea anche un video a questo film qua di di arancia meccanica che come film l'hanno fatto ma lei nel come film kubrick l'ha fatto nel mare nel 71 che anche se due a quelle due 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 ore e un quarto mai di film però visto che come trama come film anche come fatto così è molto bello che parla più che altro di questo di questo ragazzo che si chiama alex che che come si dice che a capo ma è di una banda che di una banda che questa tra di loro sì che si si chiamano tra di loro si chiamano drughi che questa banda è più che altro ma lei sono sono abiti come abitudini ma è di questa di questa ma è banda e fai ma è omicidi ma è anche studi anche forti anche forti che fino a quando mai e questo capo di questa banda alex e vieni tipo arrestato perché entra in una casa di un altro scrittore che riesce ma lei a farlo arrestare e finire farlo finire in carcere e una volta in carcere viene sotto questo alex viene tipo sottoposto magari a delle tipo a delle tipo delle rangherie a varie magari esperimenti che deve tipo assistere a filmati di violenza di violenza così e nello stesso momento magari che lui è in caccia il mare i genitori su barbi e su sub affitto no ma è la la sua ma è la sua stanza che che più che altro ma resto film come protagonista ma lei è anche parla di questa banda che tra loro ci chiamo duri però magari il protagonista e questa il capo di questa banda che si chiama alex che lo sottopongono a questi magari tipo ad anche a prove che a progetti di guardare questi film a questi filmate filmati che magari è una che dopo una volta anche riuscito come si dice anche una volta mare che è riuscito a finire magari anche tutto questo procedimento di di essere ma è sotto sotto posto ma era certi anche riesce ma è anche dal carcere e torna ma è anche alla la sua mare con la sua banda e riesce magari a magari a tornare a essere magari il capo di questa banda però è anche quando è in ospedale magari è come si dice a parte che magari tenta e tenta anche magari il suicidio quando è ancora in ospedale però nello stesso momento riceve anche magari una una visita ma è sempre di cortesia da parte del primo ministro provo che che come come trama e anche come fatto magari anche anche i film e questo qua di arancia meccanica merita è uno di film che magari che che ha fatto che cubri che ha fatto che che merita assieme ma lei anche a shining e anche 2001 di siano lo spazio e anche altri che magari c'è c'è che altri ma è di cubri che lì di onda è tipo andare ancora anche se li ho recuperati ma lì dottimo ancora andare a guardare che magari più avanti magari sui film di cubri che magari vedrete magari sui film di cubri che mi volevo tipo recuperare i mares e questi film quelli che mi mancavano da guardare di cubri che e niente che magari come al solito magari vi lascio sotto ma lei in descrizione come al solito come si dice magari il videotraile il cast delle persone che hanno collaborato degli attori che ci sono e anche mai proprio ma anche ma lei la la trama proprio del del film che sicuramente ma è magari questo qua di arancia meccanica è uno dei migliori che da parte mia di cubri che magari che ha fatto fino adesso di quelli che ho mai che che ho visto io e niente e al massimo ci vediamo magari sicuramente quello che potevo magari dire su questo film di arancia meccanica magari l'ho già detta al massimo ci vediamo magari sicuramente più avanti sul mio canale con i miei soliti magari video che porto magari sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo magari più avanti con un altro video e niente ciao